Immagini della prova di qualifica per il quattro anni Pino Car, potromo di Vinovo, domenica 15 settembre. Pino Car arriva a completare i 200 in 15,2 alla media di 1,16, mi ha accompagnato dal Galoppino, per i colori della signora Maurizia Cartabia, il training di Marco Ferrari e la guida di Marcello Lettieri. Si esce dalla piegata, i primi 400 metri in 31,8, in fronte a mellone c'è un 31,6, vediamo il passaggio ai 600, per quello che mi riguarda il passaggio completato in 46 netti, 46,4 dice il tabellone, media 17,3, deve fare 18,5, quindi 2,05 e 6 il tempo totale. Il passaggio agli 800, io ho 1,01 e 9, il tabellone 1,02, diciamo che ci siamo, 17,5 alla media, 34 il secondo parziale, vediamo il completamento del giro, personalmente ho 1,17,6, 17,8, dove c'è il tabellone di centrocampo. Ora si va all'attacco della piegata conclusiva, con Pinocard che arriva a completare i 1,200, in 1,32,9 alla media di 1,17,4, 39 per la terza frazione, completamento della curva, ingresso addirittura, deve fare al massimo 2,05,6, c'è il tempo massimo da utilizzare 2,05,6 perché deve fare 18,5 o migliore al chilometro, allunga Pinocard rispetto al galoppino, vediamo la conclusione 2,03,7, quindi qualificato la media di 1,17,3.